Musica Certo quanto costa aprire un'attività? Scusa ma per i telefonini che abbonamento abbiamo? Chi ma fare fatto? Così azzeriamo tutti i costi fissi, niente caro e niente tasse di concessione E lo scatta la risposta? Niente, paghiamo solo quello che consumiamo e il telefonino è gratis Tutto senza sorprese Mi ama! Tanto c'è già Giorgia che ci fa le sorprese Non stiamo stringendo un po' troppo? Ah, papà, è che la sua camicia è così morbida Morbida? Oh, usiamo anche l'ammorbidente adesso No signore, è Bolt 2 in 1, detersivo e ammorbidente in un solo prodotto per un pulito perfetto E una morbidezza irresistibile Bene, marinaio, ma si ricordi? È la mia bambina Bolt 2 in 1, pulito e morbidezza irresistibili Oggi fu il giorno di Letizia per lo convento e per gli frati tutti Che ci ritrovammo avanti lo cancello per rassettare tutto l'orticello Si fece avanti lo frate Cimabue che se una cosa fa ne sbaglia due Lo primo tentativo è sfortunato E Cimabue resta e te Incarciofato La battitura di porta dietro tutta casa Io almeno la casa ce l'ho Tu manco quella Tu moglie ti ha cacciato Cacciato? Ci siamo voluti rifletti Urbano, Rodolfo, partite anche voi per le vacanze Vacanze? Ma via Crucis? Carica la macchina via nonna, scarica la macchina, pitta la casa via ombra e non le fa la spesa? Eh no, per noi la vacanza è relax, se no che vacanza è? Goditi l'estate, passa a Tim Con auto ricarica relax parli per sempre a 9 centesimi al minuto E quando ti chiamano ti ricarichi di 9 centesimi Allora siamo pronti? Oddio mi sono scordato le passecche in la valigia Dove? Quella sotto a tutto Oh mio padre Ce l'ha qui nella tasca Ehi, fate piano Che ha fatto Crunge? Ladri di tronchi Fate vedere le mani Tu no Mani pulite, certo La crema è tutta nel vafe Tronchi non sporca ma crocca Dai che ce ne abbiamo lasciato uno Ti ho messo paura, eh? Tronchi, fuori croccantissimo, dentro morbidissimo Ragazze, venite a fare un giro con noi? Non possiamo, siamo su Google Ah, Google Ma che? E che ne so? E internet, come sul computer Questa è l'icepide della Tim Il telefonino più veloce del West Ma sa che è una scusa? Google è per me Internet è sul telefonino Ma vado lì a vedere Se è vero Se è vero non lo so Torno a casa al ruoto Prova Google nei negozi Tim E con le offerte relax Ai nuovi UMTS high speed A partire da 99 euro Certo, tu marito Questa è scommessa Ma manca poco Secondo me pochissimo Bisogna chiamare il meccanico Fai il 12 Oh, ma non risponde nessuno Te credo Il 12 non c'è più C'è il 12 e 54 Antichi Cimabue, cimabue Fai una cosa Ne sbagli i due Ma che cagnara Sbagliando si impara Fai la visione Fai la visione Fai la visione Fai la visione